Scusate, è che da quando si è saputo che sto infine alla FameLab mi arrivano al giorno circa dieci richieste di amicizia su Facebook. Ora, come faremo oggi senza il telefonino, senza social network, senza Instagram, Facebook, Whatsapp e quant'altro? Sono essenziali. E sono sicuro che a tutti noi sia capitato, insomma, di sentirci dire, e posa sto cellulare? Beh, non è che ci hanno tutti i torti, però dal punto di vista sociale ci consentono di fare nuove amicizie, ci consentono di consolidare dei legami. E quello che voi non immaginate è che la comprensione di questi social network, che voi sicuramente conoscete più di me, vi può aiutare in alcuni campi che sono spesso valutati più noiosi rispetto a quello che, ad esempio, condividere una foto su Instagram. Se vi dicessi che tra un tweet e un like su Facebook, voi siete in grado di comprendere la natura chimica dei legami, mi credereste? Inizialmente vi vorrei dire che un legame chimico non è tanto diverso da quelli che sono i legami tra le persone, tra le relazioni tra noi persone. Quello che succede è che due atomi, essenzialmente, o anche di più, possono essere legati attraverso l'utilizzo di una speciale colla, gli elettroni. Ecco, come succede nelle relazioni, come nelle relazioni di social? A seconda di chi sono questi atomi, a seconda di chi sono queste persone, il legame sarà diverso, con la sola differenza che gli atomi di certo non hanno il problema della privacy che abbiamo noi. Ecco, io adesso quello che vorrei dirvi è che voi sicuramente sapete che non tutte le persone vanno d'accordo, in ogni caso, anche gli atomi, non tutti vanno d'accordo. A seconda di quelli che sono gli atomi, a seconda di come è messa questa colla, questi possono stare più o meno vicini. E voi direte, sì, vabbè, però tu mi stai parlando di atomi, di elettroni, io voglio qualcosa che posso toccare, tipo questo telefonino. E che mi dite della richiesta d'amicizia su Facebook? Immaginiamo che là c'è Matteo che ha richiesto l'amicizia a Paolo. Ora, se Paolo accetta, loro due sono amici, sono legati. Sono legati perché entrambi hanno condiviso un'amicizia, una richiesta d'amicizia, proprio come succede agli atomi quando sono legati da un legame covalente, in cui i due atomi in gioco condividono i loro elettroni. E se invece vi parlo di quando stavate sul profilo Instagram del Triomedusa e siete diventati loro follower, che è successo? Vi siete legati anche a loro, anche se non necessariamente poi loro vi hanno riseguito. Ma quello che voi avete fatto è stato intraprendere un legame ionico, cioè voi avete ceduto parte dei vostri elettroni al Triomedusa e siete stati in legame con loro. E poi il legame metallico, l'ultimo, quello che è descritto come tanti atomi legati da un mare di elettroni. Che mi dite nel gruppo di WhatsApp dove arrivano centinaia di notifiche al giorno, messaggi, video, audio, tutto? Beh, noi non siamo atomi legati insieme da un mare di notifiche, di elettroni, però adesso fate una cosa, prendete il cellulare, mettetelo in tasca e date un abbraccio all'atomo, alla persona che avete vicino. Grazie. Grazie.